Dopo nove anni di attività politica attiva, Massimiliano Floriani ieri si è dimesso dal Consiglio Comunale di Arco. Il suo impegno politico era iniziato nel 2008 con l'adesione all'Italia dei Valori. Nello stesso anno si era candidato alle elezioni provinciali, risultando terzo per numero di preferenze. Successivamente era stato nominato referente del partito per i giovani e nel 2010, con l'amministrazione Mattei, nominato assessore. Purtroppo gli eventi degli ultimi mesi, ha spiegato in una nota, non mi consentono di adempiere al mio ruolo di consigliere e dunque, per motivi personali, ho rassegnato le mie dimissioni. Convinto di aver adempito al ruolo di consigliere in questa legislatura in piena attinenza con il voto degli elettori e di aver fatto ciò che meglio potevo nella scorsa amministrazione come assessore, chiedo scusa per i molti errori che ho fatto. Infine, ringraziamenti e anche una stoccata a Stefano Bresciani. Ringrazio il sindaco, la giunta e i consiglieri comunali per la collaborazione, ma purtroppo questo gioco non mi appartiene. Io non ho interessi e stipendi da difendere e se non riesco a far fronte a un ruolo affidatomi, l'unica soluzione è abbandonarlo.